La mia speranza è che non siamo tutta la vita così in casa, ma il mio punto di vista non lo lasciamo qui, perché dove c'è sofferenza c'è la grazia. Gesù anche ha preso la croce. È molto bello stare con la gente, consigliarla anche con la telefonata. Sempre stavamo in contatto con i cristiani, con i nostri maestri, attraverso il website, come state, cosa c'è da voi, c'è un bombardamento così, dà un po' speranza, anche per mezzo di un piccolo gesto, anche se tu non puoi andare, uscire e portare così. Questa è la nostra missione, non è giusto un posto che c'è difficoltà, lasciamo. No, no, bisogna stare con la gente, confortare e affrontare le difficoltà con loro. Questa è la nostra missione, anche dopo e con i nostri studenti facciamo come attività psicologiche per loro, anche per noi, anche per i maestri. Questo è molto importante per noi. E questa è la nostra missione. Grazie. 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 Grazie a tutti.